Salve a tutti, allora novità oggi, novità, rispondo velocemente a Super Galga, se non sbaglio, che mi ha chiesto come si chiamano gli annellini gialli che stanno sopra, allora andiamo a vedere insieme, sono questi qua, arnellini per Prat, Prat e Grings si chiamano, vedi, quello giallo come il mio non lo trovi più, perché non lo fanno più, però trovi questi qui che vanno bene, perché la stessa cosa fondamentalmente, prova a vedere, mi pare che ci sono anche vari colori, adesso mi sono venuti questi qua fuori, ma la Wimau mi pare che le fa in variati modi, insomma, questi foglietti, quindi, sì, questi annellini, come si chiamano Prat e Grings, Dart, e le trovi, mi pare che non li trovi solo gialli, ma anche di altri colori, adesso non ricordo bene, ma comunque, questa era la risposta veloce a Super Galga, poi rispondo a Emanuele che mi ha chiesto che sia appassionato a questo sport, ma non gli vuole comprare le fraccette, allora Emanuele, come posso fare? mi chiede, innanzitutto Emanuele, quanti anni hai? Perché, insomma, se sei tanto piccolo, bisogna sapere che ci sia qualcuno vicino, perché le punte in ferro, almeno all'inizio, perché tu impari a usarle all'inizio, a stare attenti, questo va detto, insomma, non so quanti anni tu abbia perché non me l'hai scritto, comunque, se sei sui 14 anni, magari lavora la macchina del papà, tanto con pochi soldi ti compri le freccette del bull, insomma, fai qualche lavoretto, implora la mamma, non sta a comprare più giochi della Playstation, tanto non servono a niente, e ti prendi le freccette, magari sarai il futuro campione di freccette, vieni a fare un po' di sacrifici, no? quindi lava la macchina, prendi superterra, fai qualsiasi lavoretto possibile per farti dare qualche soldo, le metti da parte, e ti prendi le freccette, che tanto ci sono frecce che non costano tantissimi soldi, insomma, anche con 30 euro ti compri delle belle frecce, quindi, e poi un bersaglio, altri 30, quindi fai 35, dai, facciamo 35, quindi dai, con 65 euro, bene o male, te la cave, ma se proprio vuoi 100 euro è tutto, poi magari attorno al bull ci metti qualcosa di morbido, in maniera di non rovinare il muro, se no sono altri 35, una roba del genere, comunque, massima spesa 150, minima spesa sarà 65, un paio di mezzo, fai 100, quindi spero di averti risposto, fai il bravo, vabbè la scuola, poi dire alla mamma che se hai problemi in matematica con le freccette, la matematica la devi imparare per forza, perché non c'è questione, cioè la matematica nelle freccette è fondamentale, quindi ho imparato la matematica in maniera esponenziale giocando a frecce, veramente, la prima facevo fatica a contare così velocemente, adesso sono diventato bravissimo, grazie alle freccette, ok, Emanuele, mi raccomando, la notiziona di oggi è il passaggio che vi avevo detto io, 5 giorni fa, che avevo beccato che nel team Wimau c'era Van Gerwen, però ho detto, bah, strano, avevamo fatto per sbaglio, invece no, è proprio così, e anche Vincent van der Voort è andato in Wimau, qui siamo sulla pagina Instagram della Wimau official, quindi sappiate che stiamo guardando quello, ingrandiamo un po' per vedere bene, sono uscite le nuove frecce di Gurney, bellissime, no, cosa dite voi, secondo me sono veramente top, veramente belle frecce, guardate che figata, veramente belle, vi faccio vedere un po' meglio qua, così, veramente bene, potete andare anche a vederle voi, insomma, adesso vi faccio vedere, Soft Thief 22, io non ho capito bene se questa cosa del 22 è compreso tutto, o solo il corpo, perché se fosse 22 solo il corpo, sarebbero un po' pesantine, io penso e ritengo che sia tutto insieme, che abbiano contato così, invece da Steel abbiamo 23 e 24 grammi, quindi questo è già una cosa, poi abbiamo le alette di Wimau, la scatolina, portaoggetti di Van de Voort, la maglietta di Van de Voort, questa è la freccia, vediamo la più in grande, vediamo se c'è, la freccia, questo telefono, mi ha detto che suona sempre, ma una bella freccia, più o meno quella che aveva adesso, vedete, una bella freccia anche questa comunque, ritengo che sarà un po' lunghina, poi andremo a vedere magari bene, una bella freccia anche questa comunque, poi il Surround, MVG, vediamolo in grande, MVG Design, bello, insomma, è questo, non so, io non li uso più il Surround, non so perché, sembra inutile, però, insomma, sappiate che c'è, insomma, poi abbiamo il Diamond Plus, che è questo bersaglio, che è colorato di verde, verde e nero, insomma, non ho capito bene a che cosa serve a questo bersaglio, se ha qualcosa di, perché a me questi colori non mi piacciono moltissimo, però, insomma, poi le alette, non so se per le solite, hanno solo scritto, MVG Design, bella faccia, di Vanghi, poi hanno fatto queste qua, le Prism, quindi saranno un po' pesantine, perché le Prism, le alette della Prism, se di solito sono un po' più pesanti, speriamo che queste qua, le mega standard Fly, siano più morbide, perché le Prism sono un po' più spesse, ma non andavano benissimo, per dire, poi ci sono queste qua, che hanno proprio la forma della Prism, con tutti i disegni della Prism, bella, insomma, se niente di che, qui abbiamo, il pacchettino di Van Gerwen, la borsetta porta freccia, bella, vai, no? Che dita, mi sembra carino, ma, qui, tiene due set art, e 11 compartimenti, questo qua, dovrebbe essere più piccolo, due set, e cinque compartimenti, questo è più piccolo, boh, questo è una chissà che, l'altro è molto più bello, questo è molto più bello, questo è una figata, questo è proprio una figata, l'altro mi piace moltissimo, un po' un po' così, poi la maglietta di Van Gerwen, è sempre la sua maglietta, c'è scritto dual core, blight 5, sulle maniche, c'è sempre la solita maglietta, insomma, ma gli hanno tolto le stelline? c'è scritto la stelline, c'è scritto la stellina e la cappiana del mondo, comunque vabbè, non importa, vediamo le frecce, queste frecce qui, le Aspires, saranno una coppia delle Green Machine di prima, a occhio, secondo il mio punto di vista, perché la forma pressoché, mi sa che è molto simile alle Green Machine, comunque è bella, è tutto il giorno ragazzi, che io cerco di entrare nel sito della WinMau, e non ce la faccio, quindi volevo entrare lì, ma non mi fa entrare, sarà in bomba, non lo so, per vedere bene le misure, come questa è da 21, 22, 23, 24, 25, 26 grammi, le Steel Tip, e le altre 20 grammi, quindi secondo me saranno 18, come quelle di prima, queste più, il resto fa 20 grammi, presumo che siano così, quindi quelle sono le Aspire, queste sono le Authentic, le Authentic praticamente sono sempre le sue, perché fondamentalmente, è tornata praticamente come, la prima versione, che avevano fatto, della Mickey's Darla, non mi ricordo come si dice bene, comunque è sempre quella, la freccia, anche a me, questa qua, diciamo che non ho messo, la targhetta WinMau, ma per il resto, mi sembra sempre, più o meno la stessa freccia, forse cambierà freccia, finalmente sarà questa, bella questa, mi piace, questa mi piace, questa potrebbe essere una freccetta che compro, giusto per dire ce l'ho, Authentic, da original Authentic, questo è il succo del discorso, che non c'è neanche il 21, c'è il 22, il 23, il 24, il 26, e Softip da 22, non ha fatto il 21, vabbè, bravo, le altre, poi ci sono le Absolute, bella anche questo, non bel grip, mi piacerebbe sapere, le lunghezze, perché però non riesco a entrare, sullo sito della WinMau, perché sarà impiantato, sarà in raggiornamento, con tutta la roba nuova che hanno, bella, bella freccia anche queste qua, sono simili alle altre, hanno solo un po' di variazione, sul, sembrano un po' più corte, di quelle di prima, no, delle Authentic, 22, 23, 24, da still, Softip 22, bella freccia, poi ci sono le Adrenaline, queste sono molto carine, ma sembrano quella versione, che avevano fatto solo, non mi ricordo il nome, delle Van Gerwen, che erano nere, ed erano più lunghe, e non quelle di, medizione limitata, ma c'era un altro paio, adesso non mi ricordo bene il nome, ma io le avevo provate, ma erano troppo, troppo lunghe, veramente, troppo lunghe, comunque questa qua, è una bellissima freccia, proprio bella, questa è proprio quella più, particolare, tra tutte quelle, che abbiamo visto fino adesso, Adrenaline, 22, 23, e 24, ma io, non vedo l'ora, di vedere le misure, perché, sapete come è importante, vediamo che questo, Van Gerwen, che prova le nuove frecce, o ha sempre le sue in mano, questa è una domanda, che ci piacerebbe, secondo me, ha sempre le stesse frecce, le hanno messe in tiro, come vedete, la maglietta, però, secondo me, è un po' stretta, Michael, una misura in più, magari, sembra un po' strettino, la classica a forma della Slim, comunque, la notizia di oggi, ecco, destra, ma che bella foto, sembra così carino, lì, Wimau, Michael Van Gerwen, bene, con questo, io tornerei, nella posizione normale, mi sembra che, una bella, una miriade di cose, interessanti, nel frattempo, sto costruendo, la nuova pedana, per fare i filmati nuovi, ve la faccio vedere al volo, vedete, così avrò anche le telecamere, vicino, e avrò, meno problemi, a fare i filmati, l'ho messo da questa parte, non userò più quella, cioè, io per allenarmi, userò o quella, o questa, ma, per, per fare i video, userò da questa parte, così non avrò problemi, con la telecamera, andrò a spostarmi tanto, perché ogni volta, insomma, era un po' più, incasinata la cosa, quindi sto facendo questo lavoro, per quello non sto, preparando, facendo i video nuovi, perché sto preparando, la nuova postazione, detto questo, abbiamo visto questa cosa, ringrazio sempre tutti, per i, tutti i nuovi iscritti, volevo ricordarvi anche, che, per chiunque, voglia andare, su Dark Corner, il sito, ehm, mondiale, più grande, di, online, di fraccette, c'è il codice sconto, Bulldozer 7, come ha scritto lì, come vedete qua, scritto, e avrete un piccolo sconto, tranne, sulle cose, WinMau, perché, hanno scontistiche diverse, quindi, eh, quali frecce dovrò comprare, io le prossime, WinMau, mi fa molto piacere, ma comunque, eh, c'è un'altra notizia, che, potrebbe essere, su cosa, ma non so, se dirla o meno, eh, comunque, oggi sono andato sul sito della Dark Corner, e ho notato che manca una cosa, e ho notato che manca anche da altre parti, questa, questa cosa, io non sono sicuro ancora, se dirvelo o meno, ma, probabilmente, vedremo una cosa nuova, da qui, a pochissimo, probabilmente, prima della Premier League, ci sarà questo annuncio, di questa cosa nuova, non ve lo dico ancora, ma sappiate che ve l'ho detto, e come ho scoperto, prima degli altri, che, era in Wimau, a fortuna, perché fortuna pura, eh, magari è così, quindi, se andate su Dark Corner, codice sconto, Bulldozer 7, questo l'ho fatto, e ritorniamo, su questa immagine, di Super Van Gerven, gli hanno fatto una bella foto, dai, almeno questa foto, una figata, dai, almeno, sembra, quasi, insomma, venuto bene, in questa foto, dai, Vanghi, gli hanno fatto una bella foto, un bel lavoro di grafica, mi piace, bene, detto questo, vi saluto, io spero di finire, per domani, la nuova postazione, e cominciare, a lavorare, sul bersaglio di Buzz, mi ha appena scritto, Francesco, mi ha detto, che lavorando sulle linee, come ha spiegato Buzz, vede subito, già, dei miglioramenti, dopo poco tempo, che si allena, su quelle cose lì, più, un esercizio, che gli ho dato io, da provare, che darò, anche a voi, ma l'ho fatto provare, a Francesco, per vedere, come ci si trova, perché, io riesco a farlo, abbastanza bene, però, mi rendo conto, che anche lui, mi ha detto, che è un po' difficilino, però, quando uno ci prende la mano, ragiona tutto a linea, poi vedrete, che alza molto, 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 il livello di gioco, e la concentrazione, e soprattutto, il lancio, sto vedendo, che sto migliorando, molto, anche nel lancio, quindi, questo mi fa, enormemente, piacere, perché, devo ringraziare Buzz, chi non ha visto, il video di Buzz, mi raccomando, vada a vedere, con Buzz Hasselberg, perché è un bel video, un bellissimo video, che vi farà ragionare, un sacco, ma veramente, e quindi, io e Buzz, sono sempre in collegamento, ci sono sentiti, anche ieri, ci sono fatti gli auguri, e tutto, e mi ha chiesto, cosa ne pensate, quindi, magari, iscrivete bene, a chi, di voi, sul canale, telegram, bulldozer, darts, cosa ne pensate, di questo video, o se avete, delle domande, vi ricordo, di farmene, in maniera, che, vi regiro a base, e poi, magari, faremo un altro video, insieme a lui, perché mi ha detto, che ha un nuovo esercizio, a farvi vedere, per cercare, di migliorare, l'effetto mirroring, quindi, a presto, sicuramente, faremo un altro video, io ho detto, gli ho detto, Buzz, aspettiamo ancora un po', perché, intanto, devono recepire questo, io l'ho già visto, questo esercizio, però, prima è meglio mettere in pratica il resto, e poi parlare dell'altro, perché, se no, sarebbe troppa roba, tutto in un colpo, quindi, sicuramente, poi faremo, sicuramente anche questo video, grazie a Buzz, che ci vuole aiutare, faremo gli esercizi, sul suo bersaglio, mi sono allenato ieri, sul suo bersaglio, e devo dire, che specialmente, sulle linee, orizzontali, è molto, molto, molto utile, perché, su quelle, della direzione, diciamo che non ho, quasi problemi, nel senso che, non ho fastidio, a metterle verticalmente, ma, orizzontalmente, è abbastanza, complicato, e quindi bisogna esercitarsi molto, sulla, sulla velocità, per chi ha visto il video, capisce, quello che, quello che sto, di cui, quello di cui sto parlando adesso, ok, bene, detto questo, vi saluto, o domani, se riesco a finire, la nuova postazione, perché devo mettere, tutte le telecamere, le cose, così, poi, possiamo parlare, tranquillamente, farò una cosa fatta bene, metterò, sicuramente, voglio farmi il poster, di Van Gerber, lo metto nell'angolo, dotteriamoci in qualche modo, ragazzi, bene, saluto a tutti, statemi bene, mi raccomando, allenatevi, come faccio io ogni giorno, saluto a tutti, grazie. Grazie a tutti.